Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovo video, oggi siamo in un altro video dedicato alle missioni di Fortnite Oggi sono molto differente, infatti voglio fare questo video molto velocemente Allora andiamo nelle missioni di rassegno e facciamo questa qua, che sarebbe la quarta ultima Che dice di danzare dal tubista, dall'uomo di paia e al bivacco boscoso Andiamo subito in lobby o quel che volete e vi faccio vedere subito, subito, subito dove si trovano tutte e tre questi luoghi Il tubista si dovrebbe trovare questo qua, si trova nella casella F8 e sta a sud di questa montagna là qua Ecco qua, questo qua è il tubista, danziamoci davanti Ecco qua il tubista, neanche l'avevo trovato, l'avevo trovato mo', e ci ballo davanti Uno su tre è fatto, andiamo subito dall'uomo di paia L'uomo di paia, come si poteva intuire, si trova a fattoria frenetica, proprio dove sto io adesso, vicino a questo albero Nella casella E4, eccoci qua, qua davanti, balliamo, io ho saltato, non sono riuscito a registrare, non so perché non mi ha registrato E comunque due su tre è fatto, dobbiamo andare ora a bivacco boscoso, andiamoci subito Il bivacco boscoso si trova sotto a questo lago qui, esattamente questo lago qui Si trova qui sotto, esattamente in questa collinetta qua Ci troviamo nella casella B4 E andiamoci subito in modo che finiamo questa maledittissima missione Eccoci qua, davanti, balliamo È missione completa, 52.000 punti stagioni, livello 120 fatto? Si, fatto Allora ragazzi, se volete commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete fatto Mettete un bel pollice in su E noi ci vediamo nella prossima live, guida, video o qualsiasi cosa vogliate Ciao a tutti